ti hanno hackerato l'account instagram cosa fare ricevo tanti messaggi di aiuto e spero in un video di riuscire a rispondere a tutti quelli che mi hanno chiesto supporto video per comodità sarà diviso in tre parti 1 cosa fare appena che rato fresco fresco 2 cosa si può fare per recuperarlo 3 cosa fare dopo averlo recuperato perché una volta che l'hai recuperato sarebbe troppo bello se finisse tutto così detto questo un paio di premesse io sono del parere che prevenire è meglio che curare ci sono dei metodi per mettere in sicurezza il proprio account renderlo quindi difficilmente hackerabile nonostante questo un'ingenuità ci può stare quindi massima attenzione fatto dei video sul come ti rubano l'account lascio qui in descrizione da qualche parte a seconda di dove state guardando il video come ben sapete racchiudo tutto ciò di cui parlo sul canale telegram lì ci sono link fonti e tutto più ordinato fatte queste premesse torniamo al punto numero uno cosa fare appena che rato anzitutto no panic calma freddezza respiro profondo non aprire subito un nuovo profilo utilizzando la stessa mail e ciò renderebbe un po più difficoltoso il recupero proprio vuoi farne uno nuovo utilizza una mail diversa a questo punto uno pensa in base alle situazioni ma l'hacker che vuole sostanzialmente anche qui può far tre cose può ad esempio utilizzare le storie e quindi truffare i vostri amici delle denaro al vostro nome numero due può continuare a rubare account sempre a vostro nome numero tre se sull'account trova un vostro numero di telefono contatta tramite whatsapp chiedendovi dei soldi per farvi riavere l'account questo caso temporeggiate è inutile discutere con chissà chi che sta chissà dove probabilmente minaccerà di chiudere il vostro account ciò non avrebbe senso perché andrebbe contro il suo interesse altro consiglio se avete utilizzato quell'account instagram per fare il login su altri siti fate il log out ed inoltre la password ad altri account se utilizzate la stessa di instagram numero due quindi come si recupera l'account è la fase più delicata e ci vuole molta pazienza è presente che queste sono le procedure indicate da instagram e io ve le riassumo allora quando l'hacker vi ruba l'account generalmente cambia la mail sulla vostra mail vi arriva una mail di cambio password deve dire se in quella mail c'è un tastino per annullare quella modifica poi potete chiedere un link di accesso cliccando su dimenticato la password e seguire tutta la procedura dovreste inserire il vostro username o la vostra mail di sperare di ricevere un link di accesso una cosa simile si può fare anche per ricevere un codice di sicurezza non mi soffermo tanto perché queste procedure generalmente non funzionano che gli hacker più attenti una volta che entrano nel vostro profilo cambiano tutto lo personalizzano lo fanno loro quindi queste cose non funzionano più che ha un tasso più alto di successo è questa qui la verifica dell'identità sempre cliccando su ho dimenticato la password e poi a seconda del dispositivo che avete vi verrete ad un punto in cui instagram vi chiederà un video selfie questo però funziona se nel vostro account sono presenti immagini che vi ritraggono capitolando al volo attraverso l'app una volta che voi cliccate su ho dimenticato la password voi cliccate su ho bisogno di ulteriore assistenza questo varia se siete da android o da iphone vi verrete ad una schermata per inserire il vostro video selfie che servirà per verificare che siete voi i titolari dell'account questo funziona solo se nel vostro account ci sono immagini che vi ritraggono presente che la procedura è indicata dall'assistenza di meta io so qui per dirvi che ci vuole tanta pazienza perché una volta magari il video selfie non vi si apre ha degli errori caricate finalmente vi dice impossibile caricare e vi consiglio è di riprovare riprovare sempre vi dicevo che ci vuole tanta pazienza detto questo se la procedura e ve lo auguro dovesse andare a buon fine vi avrete un link tramite email da instagram dove vi verranno date anche le informazioni e le istruzioni per recuperare il vostro account vi cliccate sul link e seguite la procedura eccoci finalmente in possesso del nostro account instagram però prima di cantare vittoria ecco che arriviamo alla fase 3 quindi cosa fare una volta che sei rientrati in possesso del proprio account andate nelle impostazioni sicurezza e disabilitate l'autenticazione a due fattori ma poi riattivatela subito dopo magari scegliendo un'app di autenticazione anche su questo ci ho fatto un video date poi nelle attività di accesso da cui eliminate dispositivi da cui risulta l'accesso cliccando su tre puntini altra cosa molto importante andate nelle impostazioni in basso qui sul centro gestione account e qui è probabile che siano stati abbinati account non vostri quindi dissociateli poi cliccate su account ecco qui rimuovete tutto facendo un attimino un passo indietro e insisto sul fatto che dovete avere pazienza capitare che instagram vi neghi l'accesso all'account vi risponda con un no potete comunque riprovare riprovate perché comunque non avete altra scelta fidate anche da pseudo hacker che si paleseranno promettendovi di recuperare l'account veramente sotto compenso che lì si tratta di una truffa che instagram offre una procedura di recupero magari può non essere impeccabile però comunque la offre non confondere con qualcuno che magari vi fa una consulenza se avete poca dimestichezza generale ecco vi può aiutare vi può dare qualche consiglio però magicamente non mi può ridare l'account detto questo le problematiche comunque legate al forzo dell'account account smarriti eccetera eccetera sono davvero tante quindi difficile anche riassumerle e se volete raccontate le vostre esperienze aggiungete qualcosa finché il video possa essere utile anche a qualcun altro che si non soiscono le vostre esperienze aggiungete